Davvero guerriero, Cudini si rompe la testa, torna in campo, gioca bene e vince. 4-3 contro la Germania. Sì, diciamo è stata una bella serata, una partita combattuta contro un'ottima Germania, un ottimo portiere, quindi alla fine è andata bene. Piccolo episodio, niente di grave. Che non pregiudica niente per il futuro? No, assolutamente no. Un piccolo punto, mettiamo e siamo a posto. Dai, viaggia per la prossima etapa. Senti, 4-3 come hai bei tempi, tu quasi nascevi forse in quel periodo? Sì, l'ho rivista poi strada facendo, quindi era ancora piccolino, però bene. Ricorda sempre i vecchi Fausti, quindi siamo divertiti, è stata una bella serata, il pubblico si è divertito, quindi bene così. Grazie a tutti.